Ieri arriva il sì della Commissione Bilancio al definanziamento dei progetti del Patto per il Sud per Gela e Termini Merese. Era un sì quasi scontato, eppure non sono mancate le reazioni politiche. Tra queste è anche quella del sindaco che, seppur rassicurato dall'assessore Turano, dice che se dovessero essere bugie ci saranno delle conseguenze politiche. Si grida allo scalpore quando in realtà non è cambiato nulla. Il sindaco, così come tutta la cittadinanza e come chi oggi in maniera strumentale attacca questo accordo tra il governo regionale e l'Udc e il governo greco, oggi lo attacca ma dimentica che il nostro è un accordo politico, un accordo politico stretto in lo tempore. E a conferma, a chi mette in discussione tutte queste cose, vorrei ricordare semplicemente che proprio il Comune di Gela, il sindaco, ha mandato una nota il 21 marzo all'assessorato attività produttive, chiedendo proprio il rinnovo di questa interlocuzione tra l'onorevole Turano e proprio il governo della città. Ripeto, l'assessore Turano è stato chiarissimo e non lo ha fatto tramite proclami di campagna elettorale o tramite un comizio. L'assessore Turano è stato chiaro proprio ieri in commissione, ribadendo che i progetti di Gela verranno ugualmente finanziati. La prova dove sta? Bene, il Comune di Gela non ha mai ricevuto una declaratoria di irricevibilità dei progetti, tanto che sono stati presentati quattro progetti relativi proprio a quella tabella patto per il Sud, che sono in lavorazione all'assessorato attività produttive. Ripeto, non capisco questa cosa, nessuno mai aveva parlato di revoca della delibera. Si è sempre parlato di finanziare i progetti che sarebbero arrivate da Gela. È un accordo politico che rimane in piedi e che confermo, ripeto, ad oggi senza se e senza ma. Il definanziamento era cosa ormai risaputa, adesso arriva anche la conferma da parte della commissione bilancio e il PD attacca il governo musumeci. Lo scippo dei 33 milioni di euro si era consumato allora, si è consumato tuttora. Ma guardi, siamo di fronte a una commedia e neanche di quelle di buon livello, diciamo, perché il governo regionale, il governo musumeci, nel pieno dell'emergenza Covid, chiede alla commissione bilancio un barere, sapendo che la norma diceva che la commissione bilancio avrebbe dovuto dare un barere prima e tuttavia queste saranno le vie giudiziarie, le vie legali a superare questo grave errore da parte del governo e siamo convinti che quella delibera sia illegittima. E tuttavia resta il problema politico. Il problema politico è quello che il governo regionale musumeci continua a scippare e avere una vera e propria fissa su Gela, scippa i 33 milioni, scippa 100 mila euro su una bellezza archeologica dopo aver detto che Gela sarebbe stato al centro degli investimenti dei beni culturali e continua a dare un'immagine chiara che Gela non è nell'interesse di questo governo. Il precedente governo questi soldi per Gela li aveva messi, il governo musumeci questi soldi li ha tolti. Riteniamo questo sia un vatto insopportabile e l'appello che facciamo è che davanti a una questione del genere non ci sono colori politici. Davanti a una questione del genere c'è la città. Chi tende a volere convondere le acque solo per spirito di parte, per difendere un governo che ormai sul piano politico è evidentemente allo sbando, sbaglia perché non sta facendo gli interessi di Gela. Quei 33 milioni sono dei gelesi per un fatto semplice, perché questa città ha pagato un prezzo altissimo sulla deindustrializzazione e quei soldi servivano per ripartire.